Ora noi tre insieme pianteremo un albero. La paletta, il concime, gli utensili e l'albero. Allora, questo è il concime, fa crescere l'albero. Bene. Bene, paperina, tu pianterai l'albero e tu dovrai scavare il buco. Lo faremo proprio qui. Mi sembra il posto giusto. È un buco bellissimo, paperino. E adesso l'albero. Tieni. Un po' di concime. Là. Ok, pianta là però. Non va bene così. Sta' attenta. È proprio l'opposto di come dovrebbe essere.